ma sono meno gli appini quest'anno come mai a lavorare sono sempre gli stessi a lavorare sono sempre gli stessi si vede che lavorando sempre gli stessi si vede che vi pagano bene la domenica è per due quel discorso la giusta però mi hanno detto che due per zero per due fa sempre zero e presto ancora più tardi la gente verrà ho detto faccio un giretto adesso devo andare in biblioteca non c'è stato vento fino adesso prego va bene allora le caldarroste la vuole due da assaggiare no grazie ho mangiato e quindi devo stare a dieta eh sì da domani bravo il fuocherello signore allora ci vediamo più tardi dai perché così quando c'è gente vengo più tardi certo adesso vado vado di là in zona magari con ansia no comunque va bene mi fa sempre piacere trovare gli alpini